bello a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale ragazzi oggi ragazzi vi andiamo a fare l'aggiornamento dei gironi che si sono svolte ben si giornate ragazzi svolte si ben si giornate ragazzi e oggi vi do fare l'aggiornamento ragazzi andiamo allora ragazzi iniziamo nel gruppo A ragazzi ragazzi in giallo ragazzi sono quelli che si calificano direttamente andiamo addosente ai gironi per europeo che si giocherà in Germania ragazzi ragazzi l'altro è già qualificato poi quella in viola ragazzi che si giocheranno in playoff per quelli grossi che erano mandati a casa ragazzi allora al primo posto con 15 punti e c'è la scossa con c'è la scossa con 15 punti allora ragazzi gf e in cofatti gs grossi uniti e ed è la di mazzaviti poi la scossa ragazzi c'è la spagna con 9 punti che ha una volta in meno ragazzi poi a te c'è la norvegia con 7 quarto la georgia con 4 e quinto il cipro con c con 0 punti ragazzi poi ragazzi andiamo nel gruppo b primo posto la francia con 15 punti ragazzi seconda l'olanda con 9 punti che ha una volta in meno terza la grecia con 2 punti quarta l'irlanda con 3 punti la quinta il la il gp terra con 0 punti ragazzi poi andiamo nel gruppo c quello che è dell'italia ragazzi al primo posto ragazzi c'è l'inghilterra ragazzi con 13 punti ragazzi al secondo ragazzi c'è italia con ben 7 punti e una volta in meno o 2 non mi ricordo ragazzi terzo posto ragazzi c'è l'ucraina con 7 punti anche lì per ragazzi l'ucraina di italia e avanti anche perchè ha guardate i meno dell'ucraina mi sembra quasi al quarto posto c'è la magia di italia del nord con 7 punti quinto è il matcha il matcha cioè la squadra del matcha questo giro questo giro è un'altra la squadra del gruppo di per vasto la crocea con 10 punti secondo la turchia con di suona che le avanti la croce per la direzione dei tipi e 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 a più si con fondo alla croce alla alla croce la tu kia testo armenia con sette punti di di mili e mitra ganna poi ragazzi al quarto posto c'è il galles con 7 anche lì quinto la lettonia c'è 2 lit con 0 punti però ragazzi nel quale c'è il primo posto Albania con 10 punti secondo posto l'arribruca cieca con 8, terzo la Moldava con 8 inglesi avanti per la diversità io ci siamo ragazzi quarto posto la Polonia che è una partita di meno ragazzi quindi vincente poi andiamo dalla seconda poi quinto posto Isola e Faroer un punto nel gruppo F più o meno solo il Belgio con 13 secondo Austria con 13 avanti per il Belgio è avanti per sempre per la diversità reti terzo la Svezia ragazzi con 6 punti ma bella differenza e a Zeidbergian è il sole con un punto ragazzi andiamo in ragazza nei gruppi con 6 squadra ragazzi nel gruppo G c'è la al primo posto Ungheria con 10 punti secondo la Serbia ragazzi con gli 10 punti avanti per 3 l'Ungheria terzo posto il Montenegro conto e la ea quarto ea quinto cioè a quarto la Bulgaria e la ea Lituano con 2 punti ragazzi ora andiamo con le 6 squadre ragazzi gruppo H primo posto la Slovenia con 13 secondo la Dinamica con 13 ragazzi avanti ragazzi la Slovenia per i gol fatti ragazzi poi al terzo posto ragazzi la finale con 12 punti ragazzi e al quarto il Kazakistan con 12 punti ragazzi 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 fu il quinto l'Irlanda del nord e il sesto il San Marino ragazzi che ragazzi è una piccola città ragazzi il San Marino ha pochi ha abitanti quindi ragazzi comunque ragazzi ragazzi il San Marino io ci sono anche stato quindi però se questo ragazzi il gruppo anche adesso è un giro equilibrato per esempio 4 sto parlando ragazzi per esempio 4 ovviamente per dare la prima 2 ce l'ho giro ragazzi perché ragazzi cioè dalla prima alla quarta c'è un punto di differenza ragazzi si può interscambiare in questo momento ragazzi vaschi prendi una e vai fuori anche da per l'off quindi vinci una e vai detritto questa regione è culpato ragazzi nel gruppo I nel gruppo I ragazzi ragazzi nel gruppo I allora prima posto c'è la Svizzera con 14 punti a seconda la Romania con 12 punti terzo Israele con 11 punti quarto Bielorussia con 4 punti Kosovo 4 anche Andorra con 2 punti 3 punti nel gruppo ultimo gruppo gruppo G per il vostro il portogallo con puntaggio più 18 punti 24 gol fatti e 0 gol subiti secondo posto la la Slovacchia con 13 points terzo Luceburg con 10 points quarto Islanda e Bosnia Z1 con 6 punti e al sesto posto il X Seistai con 0 punti e ragazzi il video finisce qua ragazzi non vediamo ragazzi domani ragazzi con il cd ragazzi di ELETRA LABORGHINE quindi ragazzi ci vediamo domani ciao ragazzi e poi ragazzi ci vediamo ragazzi con l'Italia ragazzi che giocherà il 14 con il Malta ragazzi e poi il 17 con la GITERRA poi i video cioè in gioco dopo quindi ragazzi bello ciao